Beh, visto la sintesi, non ho avuto il piacere di vederla tutta la partita, però sicuramente il Parma meritava di più. Purtroppo il calcio è questo, quindi basta poco per cambiare le torti di un match, anche il dobbio, il diritto. Poi la cosa che ha dato più fastidio è essere nato.